Il vetro non è una semplice materia quando è caldo, si muove, si plasma come fosse una danza, continua. La mia opera quindi agli occhi di chi la guarda non è rigida e continua a vivere nella sua plasticità. L'ispirazione arriva spesso come un fulmine, scatta un processo creativo che mi porta a realizzare nuove sculture che rigorosamente devono essere uniche, mai viste prima. L'ispirazione arriva spesso come un fulmine, spesso come un fulmine, spesso come un fulmine, per lavorare il vetro utilizzo tecniche antiche, rigorosamente artigianali, tramandate fino ad oggi grazie all'insegnamento di generazioni di maestri vetrai veneziani venuti prima di me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le mie opere sono esposte in numerose correzioni private e musei di tutto il mondo. Mi chiamo Mauro Bonaventura e da 40 anni il vetro è la mia grande passione. Grazie a tutti.